Il Maggiore Anderson è andato di qua. Potrebbe essere una scorciatoia per il punto d'incontro. Dovremmo proseguire. Trasferimento comandi a P... Stiamo attenti. Cos'è questo posto? Accesso ai file. Sconosciuto. Che ci facciamo qui, BT? Dobbiamo attraversare questa struttura e raggiungerla. Il Maggiore Anderson è la nostra unica speranza di sopravvivenza. Ash, qui e please, che mi ricevi, passo. Qui, Ash. Continua. Kane non risponde. Il nostro pilota della milizia sta cercando di fare l'eroe. Deve essere diretto verso di te. Uccidilo. Ricevuto. Passo e chiudo. Chi è Blisk? È un criminale di guerra ricercato dalla milizia, frequentemente ingaggiato dall'IMC. Blisk è il responsabile della morte del mio vecchio pilota, il Capitano Lastimosa. Sì. A presto. Grazie a tutti. 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 Pilota, mi stanno portando giù... ... potrebbe esserci... ... 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 Grazie a tutti. Parate, blocate con il pilota! Mi stanno portando in un'area piena di strutture prefabbricate. Non siamo molto distanti. Continua a muoverti. Riusciremo vivi con te. Resisti, sto arrivando. La tua convinzione che ci riuniremo è incoraggiante. Questo ottimismo è tipico di un buon pilota. La tua convinzione che ci riuniremo è un'area piena di strutture prefabbricate. La tua convinzione che ci riuniremo è un'area piena di strutture prefabbricate. La tua convinzione che ci riuniremo è un'area piena di strutture prefabbricate. La tua convinzione che ci riuniremo è un'area piena di strutture prefabbricate. La tua convinzione che ci riuniremo è un'area piena di strutture prefabbricate. La tua convinzione che ci riuniremo è un'area piena di strutture prefabbricate. La tua convinzione che ci riuniremo è un'area piena di strutture prefabbricate. La tua convinzione che ci riuniremo è un'area piena di strutture prefabbricate. Il pilota del mio è affuttato! Portatelo qui prima che arrivi all'assemblaggio! Il pilota del mio è affuttato! 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 Ma questo è quello che era avuttato! Il, anche se il pilota del mio è affuttato alle zone! Cattolino deve하는 l'Euph Hermanusile! Il pilota del mio è affuttato! Allora, vedevi guano l'iovrente! auf'reste essere già alto! K1 fate subito rapporto alla cupola 3 1 4! Obiettivo Uccidere il pilota della milizia. L'avete capito? Forte e chiaro! Siamo alla cupola 3 1 4! Passo. K-1 in posizione. Dateci ordini su come procedere. Passo. Ma è ora di finirla. K-1-1, eliminate il pilota della milizia. Siete autorizzati a sparare. La porta si apre. Squadra, pronti a entrare nella cupola. Pilota Cooper, tutto bene? Respiro ancora, e tu? Ancora operativo, ma non posso scappare. Ho rilevato un'apertura nella parete esterna. Dovresti uscire da lì finché sei in tempo. Guarda il tuo altro. Ha eliminato tre alleati senza rallentare! Il pilota laggiù! Come avrei dovuto prevedere, la fanteria di via così non ha la tua stessa determinazione. Forse mi toccherò a intervenire. Un raro errore di calcolo da parte mia. Esch, dimmi che hai ucciso quel pilota. Ci sto provando. Smetti di perdere tempo con i tuoi giochetti. Non posso divertirmi mentre lavoro. No, se ne risette il tuo lavoro. Ricevuto. Passo e chiudo. Non temere, sulla taglia che ti metterò sulla testa potrai comprarti tutti i giocattoli che vuoi. Settore 4 Charlie. Fate esplodere le cariche dalla 21 alla 29. A tutto il personale dell'IMC. Qui è Esch. Mi dispiace dover riferire che a causa di una violazione della sicurezza sono stata costretta a distruggere l'intero indirizzo. Alcuni potrebbero considerarlo una decisione eccessiva. Nello M, vi consiglio di evacuare immediatamente. Pilota, non so che cosa hai fatto, ma una serie di esplosioni ha indebolito il braccio manipolatore. Sono libero. Questo posto cade a pezzi. Meglio andarsene. Non sei distante dalla mia posizione. Guarda attuato. Mamma mia CIA! Autore dei sottotitoli e dei sottotitoli Autore dei sottotitoli e dei sottotitoli Maesan nemico avvistato, avanzate e attaccate Fammi eccessivi, attenzione, attenzione Bene, ora ho uccito il pilota dell'SRS Maesan nemico avvistato, attenzione, 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 attenzione Spari rapidamente? Bene, mi piacciono le sfide Spari, mi servono rinno Utalità difensiva avviata, difendete gli R.C. in evacuazione Sottotitoli e dei sottotitoli Sarita di Nivo a terra Sottotitoli e dei sottotitoli Sì, sì, sì. Vivo o morto, per me vale sempre qualcosa. Siamo. Un nucleo così presto, pilota. Ti spaventi troppo facilmente. Un nucleo off-light. Tutte le unità, fuoco. Questo pilota deve imparare a stare al suo posto. La tua tecnica sta migliorando, pilota. Ma troppo poco è troppo facile. Perfetto. Non avresti dovuto farlo, pilota. Il blocco di sicurezza è stato disattivato. Suggerisco di andarcene attraverso il tunnel. Pilota, non dovremmo prendere altri le scorciatoi. .